E-Book Reader Così da assicurare un'esperienza di lettura confortevole e personalizzabile grazie all'intensità regolabile della luminosità. Lo schermo E-Ink Pearl da 6 pollici del Kobo Glow non solo è estremamente definito con la sua risoluzione di 1024x758 pixel a 16 livelli di grigio, ma è anche dotato di tecnologia touchscreen per offrire un'esperienza di lettura e gestione dei contenuti intuitiva e moderna. Molte le caratteristiche di spicco del Kobo Glow, tutte dedicate alla valorizzazione degli e-book presenti in memoria, che possono essere scaricati via wifi accedendo allo store Kobo oppure caricati collegando il reader a un computer con il cavo USB in dotazione. Con TypeGenius è possibile scegliere tra 10 stili di carattere e 24 dimensioni diverse delle font per creare la propria esperienza di lettura ideale oppure selezionare il font esclusivo progettato in esclusiva per Kobo. Grazie al touchscreen spostarsi tra le pagine del libro che si sta leggendo è facile e immediato. Il processore da 1 GHz assicura un cambio pagina rapidissimo e facilita l'uso di funzioni quali la ricerca di parole all'interno del testo, la creazione di note e segnalibri con in più la possibilità di accedere al ricco dizionario Merriam Webster Collegiate e al poliedrico traduttore istantaneo in inglese, francese, tedesco, italiano, olandese, spagnolo e portoghese. Nonostante il peso di soli 185 grammi e le dimensioni super compatte, Kobo Glow ha tutto lo spazio che serve per memorizzare fino a 30.000 ebook da acquistare accedendo direttamente dal Kobo Glow via wifi al Kobo Store. La memoria interna di 2 GB infatti, dove si pare fino a 1000 ebook, può essere ulteriormente espansa tramite schede micro SD da inserire nello slot presente sul lato sinistro del Kobo Glow. E anche l'autonomia non è da meno, con la batteria che assicura fino a un mese di piacevoli letture. Kobo Glow, letture chiare e confortevoli in punta di dita. Grazie a tutti.